pronto pronto chi parla lei commissario ha saputo sì sì un duello mio marito e il mio amante si no 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 fortunatamente è morto mio marito sì ci mancherebbe cosa una denuncia no 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 vedi commissario si è trattato di una corrida sì mio marito faceva il toro sì toro poi giusto per le ma perché per il resto mucchetta proprio sì una vita di latte alle ginocchia mi creda come lei vorrebbe venire per le indagini no no signor commissario la prego veramente non insista io non mi sento in questo momento da te signor commissario la prego non insista io a lei verrebbe stasera stasera meglio bene allora ci vediamo stasera da me cosina veloce due facioli con le vode che non mi sento e senta commissario lei verrebbe solo un paio di carabinieri ecco anche tutto il corpo dei carabinieri può portare in questi momenti consolerebbe sa bene allora aspetto lei e una ventina di carabinieri senta già che c'è aggiungerebbe anche due corazzieri belli altini solidi sì senta mi aggiunge anche due etti di prosciutto cotto tagliato fino 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 a un'ostia proprio sì oddio mi scusi con miseria oddio Filippo è morto Filippo è morto io adesso non rivedrò un po' più adesso chi ma chi ma chi se ne frega